ciao a tutti e bentornati sul mio canale innanzitutto volevo ringraziarvi perché negli ultimi due o tre giorni il mio canale sta crescendo moltissimo e la cosa mi riempie di gioia quindi si vede che le cose che ho da dire il modo in cui lo dico vi sta piacendo e di questo ne sono felice avete visto che è iniziato sul canale di max montagna il nuovo format che è calcio mercato tg io max faremo una puntata ogni due giorni più o meno per aggiornarvi in tempo reale su quelle che sono le trattative di mercato in entrata in uscita ma come vi ho promesso questo non vuol dire che io in modo indipendente continuerò sul mio canale ad aggiornarvi da solo ok l'argomento di oggi è importante perché molti di voi mi stanno scrivendo in privato e mi stanno chiedendo ma allora dan arriva pogba o depol o perlomeno quale dei due è più probabile ora vi dico tutto quello che penso io e poi qui sotto nei commenti mi direte il vostro pensiero allora partiamo dal presupposto secondo il mio modestissimo parere locatelli e a war possiamo depennarli dalla lista per gennaio nessuno dei due arriverà a gennaio locatelli sassuolo voleva 40 milioni praticamente pagabili subito a war non ci sarebbe stato mai prestato andava pagato il presidente aulas del lione voleva soldi cash la juve si è sempre fermata davanti a questa richiesta quindi i due nomi caldi per il centrocampo della juventus a gennaio sono e rimangono paul pogba e depol veniamo a noi allora paul pogba facciamo un riassunto per chi non avesse ancora visto il video di max montagna dove ho spiegato le stesse cose pogba rimane a oggi un obiettivo molto chiaro per la juventus a gennaio ci sono due ostacoli da superare ovvero l'accordo è questo prestito oneroso con obbligo di riscatto cioè vuol dire che la juventus per avere in prestito pogba deve dare qualche milione di euro poi viene fissata una cifra da pagare che è l'obbligo di riscatto una cifra che può essere spalmata su tre esercizi o stagioni che dir si voglia quindi non sono da pagare tutti subito le cifre sono attorno ai 70 milioni come operazione per paul pogba qual è l'ostacolo il primo ostacolo è che lo united vorrebbe non solo il prezzo del prestito a gennaio ma anche una prima rata a gennaio ok invece la juve vorrebbe iniziare a pagarlo da dall'estate 2021 quindi questa è una situazione in stallo che le due società si devono chiarire fatto salvo che pogba e raiola sono assolutamente positivi e convinti di riuscire a chiudere l'accordo con la juventus anche perché se si aspetta troppo e se si arriva all'estate potrebbe arrivare il real madrid e offrire mettere sul piatto qualcosa che la juventus non può permettersi di mettere ok quindi il primo ostacolo è questo per avere pogba a gennaio lo united vorrebbe non solo i milioni del prestito per attivare il prestito ma vorrebbe già il pagamento della prima tranche ok la seconda cosa è che lo united ha chiesto di inserire nella trattativa generale tre giocatori della juventus che gli interessano non per forza tutti e tre magari uno dei tre però ha fatto una richiesta alla juventus di valutare di inserire in questi giocatori o uno di questi giocatori all'interno della trattativa i giocatori sono paolo dibala che però ha già detto che non ci va lo united e gli altri due sono arom ramsey e rodrigo ventancur di questi due per l'estate non per gennaio cioè dato che si tratta di una trattativa complicata l'idea sarebbe che pogba venga la juventus a gennaio attiviamo il prestito pagando qualche milione vediamo se ci mettiamo d'accordo dandogli già una prima tranche come desidera lo united mentre in estate potremmo dargli uno o entrambi i giocatori che ho appena detto ramsey e ventancur perché in estate perché allora ventancur per questioni numeriche di centrocampo non può muoversi prima dell'estate saremo in deficit a centrocampo ramsey idem stesso motivo ma ancora di più perché ramsey subentra rientra nel decreto crescita ok quindi quando è stato preso la juventus ha avuto delle agevolazioni fiscali dallo stato italiano questo è il decreto crescita e non possiamo darlo via prima di giugno 2021 altrimenti perdiamo queste agevolazioni quindi questa è un'informazione aggiuntiva non so se vediamo se la trattativa con paul pogba andrà avanti e poi eventualmente capiremo se la juve intende all'interno di questa cifra totale da pagare allo united inserire una contropartita tecnica lo vedremo quest'estate a mio modo di vedere le possibilità di pogba alla juventus a gennaio rimangono ancora molto alte perché le parti sono praticamente quasi d'accordo bisogna appunto superare questo ostacolo economico che come in tutte le trattative milionarie non è semplice non è non è così semplice bisogna mettere d'accordo quattro teste juve united pogba e raiola e quindi staremo a vedere quello che vi posso dire è che paratici è già super attivo e vorrebbe già trovare l'accordo con lo united entro la fine dell'anno ma come sempre accade sempre sempre la juve non ha soltanto pogba e basta sul tavolo ha diversi nomi come opzioni alternative l'abbiamo visto anche quest'estate quando si parlava di attaccanti giaco milic suarez benzema cavani sono venuti fuori tutti gli attaccanti dell'universo e alla fine morata che era uno di questi giocatori di questa lista di questo parco di attaccanti è stato preso morata perché alla fine è stato trovato l'accordo giusto per lui ok quindi nel caso pogba non fosse possibile c'è l'alternativa depol perlomeno i giornali stanno parlando di depol perché ebbene sì in questo momento io non ho personalmente nessun tipo di informazione personale tramite le mie amicizie le mie conoscenze su rodrigo depol anzi se mi posso sbilanciare ma ragazzi io posso anche sbagliarmi alla fine mio parere personale depol è più vicino all'inter della juventus ma veniamo a noi l'udinese chiede 40 milioni per depol anche in questo caso credo che si possano pagare dilazionati non tutti insieme depol è molto amico di paolo dibala lo dico perché potrebbe subentrare un paradosso perché se la juve sta diciamo chiudendo i rapporti con paolo dibala è paradossale che poi prendiamo in squadra uno dei suoi migliori amici ma questo potrebbe non voler dire nulla per gennaio è ovvio che se la juve non riuscisse a portarsi a casa a pogba potrebbe a quel punto cercare di portare depol che è un ottimo giocatore è un centro campista dinamico che sa segnare sa creare gioco ed è quello che ci manca a me depol piace moltissimo quello che però io vi volevo trasmettere con questo video è sostanzialmente questo la priorità è e rimane pogba a oggi depol è sicuramente un'alternativa credo che comunque parati ci stia si stia informando su depol perché è giusto che sia così è nell'ottica insomma nei tra i giocatori quando interessano il giocatore alla juventus parati ci parla con tutti gli interessati e poi avanza quando il momento di avanzare delle proposte ok funziona così però a mio modo di vedere depol non è così vicino a oggi come lo danno alcuni giornali sportivi o alcuni giornalisti ovviamente vi terrò costantemente aggiornati ovviamente cercherò di raccogliere più notizie possibili voi lo sapete che io non vi sparo la notizia che mi arriva dalle mie fonti anche se odio questa parola ve lo devo dire a me non mi piace questa 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 terminologia diciamo da le persone che conosco io personalmente all'interno del mondo calcio è molto vicino al mondo juve con cui con cui parlo quotidianamente uno nessuno mi ha parlato di depol anzi chi di dovere mi ha smentito mi hanno detto no non ho nessun tipo di aggiornamento su depol la seconda cosa è che anche se mi avessero detto qualcosa io non ve la vengo a sparare in faccia perché il mio modo di lavorare sul calciomercato è molto non lento perché non sono non sono lento però non ho la frenesia di arrivare per primo nel mondo a darvi lo scoop non è mia intenzione io voglio dirvi cose serie che ho verificato e quindi anche quando raccolgo la voce io cerco di incrociare le notizie con altre persone per cercare di capire che cosa torna e cosa non torna su Pogba ho molte conferme da più persone che tra l'altro non si conoscono tra di loro e le informazioni che ho sono le stesse e quindi mi permetto di farvi questo video credo sia il mio terzo su Pogba e mi posso sbilanciare su depol in questo momento non ho nessun tipo di informazione quindi vi posso dire quello che leggo sui giornali 40 milioni chiede l'udinese la juve rientra tra le squadre papabili per questo giocatore a mio modo di vedere è un'alternativa a Paul Pogba che mi sono incastrato ok spero sia tutto chiaro ragazzi ci teniamo aggiornati tutti i sacrosanti giorni sul calciomercato perché so che è una cosa che vi appassiona continuate a scrivermi nei commenti fatemi delle domande se volete che io indaghi o vi dia informazioni su qualche giocatore che vi interessa particolarmente vi ricordo che abbiamo una chat di telegram e quindi la maggior parte delle conversazioni le facciamo lì unitevi e qui sotto in descrizione trovate il link concludo il video ringraziando gli abbonati chi si sta abbonando al mio canale è una cosa attiva da tre giorni siete già in dieci che è un buon numero tutti i soldi degli abbonamenti andranno in beneficenza ve l'ho già spiegato a chi andranno quindi andate a ritroso nei miei video per avere maggiori informazioni vi dico anche in anteprima che sto aspettando delle attrezzature tecniche per migliorare ancora di più graficamente il mio canale l'illuminazione la qualità video l'inquadratura gli sfondi sto cercando di migliorarmi ragazzi perché questo canale sta piacendo e io sono contentissimo e quindi devo assolutamente crescere anche io migliorare anche io nei contenuti nel modo in cui vi parlo e nel modo in cui costruisco i miei video grazie a tutti ancora una volta buone feste e sempre forza a juve